Raduno regionale dei bersaglieri sabato e domenica a Domodossola. Ne sono attesi più di 500 da tutto il Piemonte e anche dalla vicina Liguria. Per l'occasione in programma l'inaugurazione di un monumento dedicato al corpo, l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione provinciale di Verbania. Si comincia nel tardo pomeriggio di sabato con alle 18 la Santa Messa incollegiata. Alle 21 in piazza Mercato l'arrivo del medagliere è scortato dal presidente nazionale dell'Associazione, il generale Ottavio Renzi, e dal presidente regionale Guido Galavotti, a seguire il concerto della fanfara Alpina Ossolana e della fanfara Bersaglieri Valdossola. Si riprende la domenica mattina, ammassamento alle 9 in piazza Matteotti, alle 9.30 il saluto alle autorità, gli onori al medagliere, al gonfalone della città di Domodossola, insignito della medaglia d'oro al valor militare, e a tutti i labari delle associazioni combattentistiche ed arma. Ancora omaggio floreale al monumento alla Resistenza. Alle 10 il via alla grande sfilata lungo le vie della città ci saranno anche la fanfara dei Bersaglieri di Asti, i colleghi della Valdossola e la banda musicale dei Vigili del Fuoco di Magenta. Alle 10.20 in Largo Madonna della Neve, l'Alza Bandiera e gli onori ai caduti. Poi il corteo proseguirà per l'inaugurazione del monumento al Bersagliere, collocato in circonvallazione Carlo Alberto dalla Chiesa, in prossimità di quello dedicato ai paracadutisti. Epilogo alle 11.30 circa, con la ricomposizione del corteo e il rientro del gonfalone della città nel palazzo municipale, con il concerto delle fanfare. Ecco il dettaglio del percorso, partenza da Piazza Matteotti, poi Corso Ferraris, Via Marconi, Via Briona, Piazza Mercato, Via Rosmini, Via Dalla Chiesa, Via Città di Lima, Via Canuto e Capolinea in Piazza Repubblica dell'Ossola.